Cari amiche e cari amici, fratelli e sorelle, buona domenica a tutti voi. Sì, buona domenica, anche se facciamo fatica a pensare che questa domenica 15 marzo potrà essere buona. Buona domenica anche se per noi cristiani non è cosa buona non poter partecipare fisicamente alla messa domenicale, doverci accontentare di ciò che possiamo ricevere attraverso i mezzi di comunicazione, ma cercando, e questa è una cosa buona, di vivere nella preghiera personale o in famiglia un incontro con il Signore che è la sofferenza e le limitazioni, l'incertezza di questi giorni rendono ancora più forte e significativa. Ai Vescovi, credo anche ai preti, sono arrivati soprattutto nelle settimane scorse, parole indignate, proteste, certo anche comprensibili, qualcuna francamente un po' sopra le righe, per il fatto che non possiamo celebrare la messa con la partecipazione dei fedeli. Mi chiedo se qualche fedele ha provato a mettersi anche dal punto di vista dei preti. Se ha provato a domandarsi cosa vive un prete che non può celebrare la messa con la sua comunità. Quale senso di tristezza danno quei banchi vuoti e poi anche il vuoto delle sale, degli incontri, degli oratori? Sono sicuro che qualcuno di voi ci ha pensato e faccio mio l'invito che ho sentito da un prete. Se potete mandate un messaggio, una parola, fate una telefonata di incoraggiamento ai vostri preti, perché il senso di impotenza che vivono in queste settimane sia superato anche grazie alla certezza che i cristiani si ricordano del loro prete e compatiscono con lui le fatiche di questi tempi. Grazie. Questa mattina, al termine della messa che ho presieduto anch'io in quasi completa solitudine nella cattedrale, ho voluto fare un gesto solenne e pubblico di vita, di fede per la città di Crema, per tutti i nostri paesi, per tutta la nostra diotesi e ho impartito la benedizione con il Santissimo Sacramento dell'Eucarestia dal portale della cattedrale e poi all'incrocio delle quattro vie del centro di Crema e poi ancora di nuovo all'altare della cattedrale. Non potevamo naturalmente dare pubblicità a questo gesto per i motivi che ben conosciamo, qualche passante occasionale l'ha visto e ne è rimasto, credo, toccato. I mezzi di comunicazione potranno poi darmi informazione e li ringrazio. Sì, davvero la benedizione del Signore ci accompagna e ci accompagnerà ancora dentro e fuori dall'emergenza. Al tempo stesso la benedizione di Dio ci chiede di diventare benedizione gli uni per gli altri. Prova a dirvelo prendendo a prestito le parole di Dietrich Bonhoeffer, un cristiano, teologo, pastore della chiesa luterana tedesca, che è stato chiamato a vivere la testimonianza di fedeltà al Vangelo in una situazione particolarmente drammatica, quella del nazismo, che lo ha condannato a morte. Nel pieno della bufera, mentre era già in prigione, scriveva così. La risposta del giusto alla sofferenza che il mondo gli procura è la benedizione. Questa è stata la risposta di Dio al mondo che ha crocefisso Cristo, la benedizione. Non condannare, non ingiuriare, ma benedire. Il mondo non avrebbe speranza se non fosse così. Il mondo vive della benedizione di Dio e del giusto e ha un futuro. Benedire, cioè porre la mano su qualcosa e dire nonostante tutto tu appartieni a Dio. Così facciamo con il mondo che ci procura tale sofferenza. Noi non lo abbandoniamo, non lo respingiamo, non lo disprezziamo, non lo condanniamo, ma lo chiamiamo a Dio, gli diamo speranza, poniamo le mani su di esso e diciamo la benedizione di Dio venga su di te e ti rinnovi. Sii benedetto mondo creato da Dio che appartieni al tuo creatore e redentore. Abbiamo ricevuto la benedizione di Dio nella felicità e nella sofferenza, ma chi è stato benedetto non può fare altro che benedire a sua volta, anzi deve essere una benedizione per il luogo dove si trova. Solo grazie a ciò che non è possibile può essere rinnovato il mondo. Questo impossibile è la benedizione di Dio. E questa benedizione ancora invoco per tutti voi con le parole della Bibbia tanto care a San Francesco di Assisi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Il Signore faccia splendere su di voi il suo volto e vi sia benigno. Il Signore rivolga a voi il suo sguardo e vi dia pace. Amen. Ancora buona domenica. Grazie e a domani.